Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro di Brian Tracy Parlare per vincere. Questo è un libro molto interessante che ci insegna come parlare efficacemente. Si può trattare di una conversazione tra due persone, una conversazione in gruppo o anche una presentazione davanti a molte persone. Un libro quindi che ci insegna come ottenere consenso in tutti i campi della vita. Uno dei modi migliori per diventare un oratore migliore è ascoltare molti altri grandi oratori e ovviamente prendere appunti. Bisogna osservare come camminano, come parlano, come si muovono, come gesticolano. Osservate come un oratore esperto apre un discorso, passa nella parte principale del discorso, come usa gli esempi, le illustrazioni, l'umorismo, come conclude il discorso e come si approccia al pubblico. Dovete quindi scegliere colui o con lei che è bravo in questo, che conosce l'arte della persuasione, del linguaggio del corpo, che sa provocare cambiamenti comportamentali negli interlocutori. Ogni volta che vedete questa persona e notate come parla, prendete appunti e cercate di imitarlo. praticando questa tecnica e migliorando comincerete a creare il vostro stile personale. Adesso andiamo a vedere le quattro D dell'eccellenza di un discorso. La prima D è il desiderio. Per prima cosa dovete avere un intenso desiderio di parlare bene. Se il vostro desiderio è abbastanza forte e volete raggiungere la padronanza della parola, niente può impedirvi di raggiungere il vostro obiettivo. Ma il semplice desiderio non è sufficiente. Deve essere un desiderio ardente. Dovete essere, come dire, ossessionati dalla voglia di parlare bene, di parlare meglio e di essere ascoltati. La seconda D è la decisione. Dovete decidere oggi stesso che farete ogni sforzo, supererete ogni ostacolo e farete di tutto per diventare eccellenti nel vostro discorso. La terza D è la disciplina. Dovete avere la disciplina per pianificare, preparare e tenere discorsi e presentazioni più e più volte fino a raggiungere la padronanza. Non ci sono scorciatoie per il duro lavoro nello sviluppo di un'abilità così essenziale come il discorso. Quindi dovete essere disposti ad impegnarvi tanto. E l'ultima D viene rappresentata dalla determinazione. Dovete avere la determinazione di insistere e perseverare nonostante qualsiasi contrattempo, ostacolo o imbarazzo a breve termine. Una delle paure più grandi è rappresentata dal rifiuto degli interlocutori, la paura di essere criticati da coloro che ci ascolta. Ma si può migliorare solo affrontando le proprie paure. Se in mente avrete il vostro obiettivo e non gli ostacoli sarà più facile superare queste difficoltà. I nostri più grandi nemici sono sempre i nostri stessi dubbi e le nostre paure. Ma non ci sono limiti a ciò che si può fare, essere o avere se non i limiti che si pongono a se stessi. Dovete capire bene questo punto. Le reazioni del vostro pubblico possono generare paura, indecisione e insicurezza dentro di voi. La loro risposta vi sembrerà importante, ma dovete lavorare sul significato che date alle loro reazioni e concentrarvi sul messaggio che volete trasmettere. Non dovete quindi concentrarvi su quello che vi limita, ma su quello che vi spinge ad andare avanti. Andiamo a vedere le tre componenti del messaggio. La prima è la parola. Le parole che usate sono di vitale importanza e devono essere scelte con cura. Quello che dite e come lo dite rivela quello che siete. Dovete avere qualcosa da dire e dirlo bene, altrimenti non sarete ascoltati. Questo ha un impatto incredibile sul vostro pubblico. Bisogna incrementare il proprio vocabolario e scegliere sempre le parole giuste. Poi abbiamo la seconda componente che è rappresentata dal tono. Il 38% del messaggio è contenuto nella tonalità dell'oratore e nell'enfasi che si dà alle varie parole. La tonalità proviene da dentro di noi, dalla convinzione che abbiamo dentro di noi riguardo a questo messaggio. Quando viene esposto il messaggio dimostra la nostra saggezza. La saggezza viene acquisita tramite pratica ed esperienza. Potete trasmettere la vostra saggezza tramite la tonalità di voce che usate. Per controllare al meglio la vostra tonalità dovete sviluppare la vostra maestria vocale. E andiamo a vedere come. Bisogna imparare a rallentare. Quando parli più lentamente la tua voce ha più potere e autorità. I tuoi ascoltatori hanno l'opportunità di assorbire e riflettere su ciò che dici. L'energia è essenziale. L'elemento più importante per parlare in modo eccellente è l'energia. Parlare è stato descritto come una conversazione entusiasta, proiettata ad un livello di energia più elevato, a più persone e ad una maggiore distanza. Bisogna costruire il potere vocale. La voce umana è come un muscolo. Molte persone con voce debole sono diventate potenti e sicure di sé costruendo la loro voce nel tempo con l'esercizio. Una delle migliori tecniche per costruire la propria potenza vocale è leggere una poesia ad alta voce. Scegliete una poesia che vi piace particolarmente, memorizzatela e poi recitatela regolarmente mentre guidate o camminate. Quando recitate questa poesia immaginate di fare una presentazione drammatica davanti a un gran numero di persone. Metteteci emozione, forza, energia e cercate di recitarla lentamente. Un altro consiglio è quello di registrare ed ascoltare la propria voce. Mentre sviluppi la tua capacità di parlare con potenza, registra te stesso leggendo poesie o parti di opere teatrali con un registratore. Oggigiorno tutti ne abbiamo uno nei nostri smartphone. Riproducete queste registrazioni più e più volte cercando modi per migliorare la vostra pronuncia e il vostro ritmo. Potete registrare anche le conversazioni telefoniche. Potete aumentare il vostro livello di padronanza vocale registrando la vostra parte della conversazione telefonica per poi ascoltarla in seguito. E la terza componente è il corpo. Il 55% del messaggio è contenuto nel linguaggio del corpo dell'oratore. Questo perché ci sono 22 volte più nervi dall'occhio al cervello che dall'orecchio al cervello. Questo è scientificamente provato. Quindi se sorridete e mischiate il sorriso con le vostre gesticolazioni questo ha un grande impatto sul vostro interlocutore. Dovete cercare di dimostrare presenza durante la vostra conversazione e questo lo potete fare tramite il contatto con gli occhi che dovete cercare di prestarci veramente tanta attenzione. Spesso per molte persone è difficile guardare negli occhi l'interlocutore durante un discorso ma è un processo su cui dovete lavorare perché se non guardate una persona mentre parlate il vostro interlocutore avrà l'impressione di non essere al centro della vostra attenzione anche se state parlando con lui. Ricerca di informazioni. Il primo passo nella vendita è quello che 3 si chiama la prospezione ossia trovare persone che possano e vogliano acquistare i vostri prodotti o servizi entro un periodo di tempo ragionevole. La prospezione inizia con voi per determinare esattamente chi è il vostro cliente ideale. I quattro requisiti di un buon prospetto sono in primo luogo il prospetto deve avere un dolore che non è stato alleviato, deve avere una insoddisfazione o un'area di disagio che lo infastidisce e lo rende infelice. Prima di iniziare a vendere dovreste identificare esattamente il dolore che un potenziale prospetto potrebbe provare e identificare come il vostro prodotto servizio possa alleviarlo. Dobbiamo collegare quindi il prodotto con queste insoddisfazioni per far capire al nostro cliente che potremmo risolverle. In secondo luogo un buon prospetto è colui che ha un problema che non è stato risolto. A volte questo problema è chiaro, a volte però non lo è. In alcuni casi può essere difficile distinguerlo. Però in ogni caso dovete definire il problema che il vostro cliente ha e spiegare come il vostro prodotto potrebbe risolverlo in modo vantaggioso e veloce. Questo si ottiene attraverso delle domande che dovete fare al vostro cliente. Cioè dovete indurlo a raccontare il suo problema o la sua esperienza. In terzo luogo il prospetto ha un'esigenza che non è stata ancora soddisfatta, vuole una sorta di miglioramento della sua vita che il vostro prodotto può offrire. E dovete chiedervi qual è il bisogno che il vostro prodotto o servizio soddisfa. Il quarto ed ultimo punto è un buon prospetto è una persona che ha un obiettivo che non ha non ha ancora raggiunto. Il vostro lavoro consiste nel determinare quale obiettivo o miglioramento il vostro prodotto o servizio consente al potenziale cliente di raggiungere. Quindi come questo prodotto raggiunge l'obiettivo in modo tempestivo e vantaggioso. Il punto di partenza della preparazione è il vostro pubblico. Ricordate che non si tratta di voi ma di loro. Iniziate come se foste un ricercatore di mercato o come se foste determinati a comprendere a pieno i vostri clienti. Dovete capire chi sono esattamente, chi sarà il vostro pubblico, qual è la chiave per un discorso efficace e per una preparazione eccellente. Per capire il vostro pubblico, coloro con i quali dovrete avere a che fare, è utile rispondere a queste domande. Quali sono i loro obiettivi e le loro aspirazioni? Quali sono le loro speranze e le loro paure in relazione al vostro prodotto? Quali sono le loro esigenze che voi potete soddisfare con i vostri commenti o con le vostre idee? Quali sono i loro valori e le loro convinzioni? Qual è il loro orientamento politico? Che tipo di sentimenti religiosi hanno? E quali sono le loro preoccupazioni o i loro problemi? Adesso andiamo a vedere la parte più importante del libro che riguarda la struttura del discorso o della vostra presentazione. Ci sono vari tipi di presentazioni ovviamente. Se parliamo di struttura per brevi presentazioni, possiamo dividerla in una prima, seconda e terza parte. La prima parte riguarda l'apertura. Dovete dire semplicemente al pubblico cosa direte nel vostro discorso. Per esempio si potrebbe dire grazie di essere qui. Nei prossimi minuti voglio presentarvi i problemi che il nostro settore si trova ad affrontare oggi e le azioni che possiamo intraprendere per trasformare le sfide a nostro vantaggio nei mesi a venire. Questa apertura prepara il vostro pubblico e dà il vostro discorso una traccia da seguire. La seconda parte riguarda quello che avete promesso nell'apertura. Questo può consistere in uno, due o tre punti. Se si tratta di un breve discorso dovrebbe includere solo tre punti chiave sviluppati in sequenza. Ad esempio si potrebbe dire ci troviamo di fronte ad un aumento della concorrenza, a una riduzione dei margini di profitto e a un cambiamento dei gusti dei clienti ad esempio. Guardiamo a ciascuno di questi aspetti nell'ordine indicato e consideriamo modi alternativi per affrontarli in modo efficace. La terza parte del discorso è un riassunto di quello che avete appena detto. Non dovreste mai aspettarvi che il vostro pubblico o i vostri ascoltatori memorizzino tutto quello che avete detto la prima volta che lo sentono. Bisogna sempre riassumere, ripetere perché questo è utile ma anche piacevole per il vostro pubblico. Se si tratta di lunghi discorsi o presentazioni in questo caso abbiamo l'apertura. Lo scopo dell'apertura è quello di attirare l'attenzione del pubblico, costruire aspettative e focalizzare gli ascoltatori sull'oratore. Non ha senso parlare se nessuno sta ascoltando, quindi dovete cercare di cogliere l'attenzione degli altri. Poi viene l'introduzione, qui è dove si dice al pubblico cosa sta per arrivare, perché è importante e questa rappresenta la prima impressione che darete al vostro pubblico, quindi dovete essere chiari e concisi. L'introduzione di una presentazione è come il vostro curriculum quando andate ad un incontro di lavoro, quindi è la vostra presentazione, è il primo impatto che avete con il pubblico, quindi deve essere buono. Poi viene il primo punto, qui si passa allo scopo del discorso, alla parte principale del discorso o corpo del discorso. Il tuo primo punto stabilisce il palcoscenico e comincia a mantenere la promessa iniziale che avete dato durante l'introduzione. Poi c'è il passaggio al punto successivo, dovete chiarire se avete finito con un punto e sottolineare che ora vi state spostando sull'altro punto. Questa è un'arte in sé e per sé perché attira l'attenzione degli altri e li aiuta a distinguere tra gli argomenti. Il secondo punto chiave poi, il punto che dovrebbe seguire logicamente il primo punto, un'altra transizione, qui si chiarisce che si sta passando ad un altro argomento, se dovete parlare di due o tre cose, ad esempio della concorrenza ma anche dell'innovazione. Sono due argomenti diversi all'interno di una presentazione e dovete chiarire questa transizione se siete passati dalla concorrenza all'innovazione. Poi c'è il terzo punto chiave, questo fluisce naturalmente dai primi due punti e comincia a spostarvi verso la fine del vostro discorso. Ed infine c'è il riassunto, questa è la vostra conclusione e la vostra chiamata all'azione e capiremo perché chiamata all'azione successivamente. Tresci ci dà alcuni consigli che dobbiamo seguire prima, durante e dopo un discorso. Prima del discorso bisogna, secondo lui, arrivare in anticipo, preferibilmente il giorno prima e poi camminare, familiarizzare con l'intero setup, il posto nel quale dovrete presentare, mischiarvi con il pubblico. Prima di parlare bisogna parlare anche con o incontrare gli organizzatori della riunione o dell'evento con i vostri, tra virgolette, padroni di casa. Se possibile con alcune delle persone che saranno del vostro pubblico, presentatevi, chiedete loro i nomi e cercate di imparare qualcosa su di loro. Bisogna ascoltare gli altri oratori, se il vostro discorso segue uno o più discorsi è importante che arriviate in anticipo e ascoltiate gli oratori precedenti. È essenziale che sappiate cosa è stato detto a questo pubblico prima di alzarvi per parlare. Questo per capire quali sono i punti in comune che gli altri oratori hanno con la vostra presentazione, per non ripetere le stesse cose, ma anche per capire quali sono i punti principali di tutte le presentazioni che potete cercare di collegare con la vostra, ad esempio. Un altro consiglio è pensate in piedi. In diverse occasioni dice Tressi, ho pianificato il mio discorso in anticipo e poi ho dovuto rivederlo rapidamente a causa di qualcosa che un altro oratore ha detto poco prima di me. A volte gli oratori hanno usato la stessa battuta o la stessa storia che avrei usato io. Poi il consiglio successivo ti presento il tuo presentatore. Per garantire una forte introduzione incontratevi e parlate con il vostro presentatore, assicuratevi di aver preparato un'introduzione scritta a caratteri grandi da fargli leggere. In cima alla pagina scrivete le parole, si prega di leggere esattamente come è scritto. Perché? Perché una cattiva introduzione, letta male, può farvi partire con il piede sbagliato con qualsiasi pubblico. Poi a cosa bisogna prestare attenzione durante i discorsi? Qui 3 si parla delle 6 A del vostro pubblico. Prima A è l'accettazione. Uno dei bisogni umani più profondi è quello di essere accettati incondizionalmente dagli altri. Includete elementi nella presentazione in cui dimostrate di accettare tutti i pareri riguardo a quello che presenterete. Poi c'è l'apprezzamento. Ogni volta che esprimete apprezzamento agli altri per qualcosa che hanno fatto o detto, aumentate la vostra autostima e aumentate la vostra simpatia ai loro occhi. Dovete dimostrare di essere i più interessati e non i più interessanti. La terza A è l'ammirazione. Abraham Lincoln diceva a tutti piace un complimento. Quando fai un complimento alle persone che incontri per qualsiasi cosa facciano o dicano o per un qualsiasi cosa che loro possiedono ad esempio, uno dei loro beni, loro si sentiranno più preziosi ed importanti e di conseguenza li piacerete di più. Quarta A è l'approvazione. Forse avete già sentito il detto i bambini piangono per l'approvazione e gli uomini adulti muoiono per l'approvazione. Le persone hanno bisogno dell'approvazione degli altri, specialmente delle persone che ammirano e rispettano. La quinta A è rappresentata dall'attenzione. Le persone prestano sempre attenzione alle persone e alle cose a cui tengono di più. Come dice il proverbio, la vita è lo studio dell'attenzione. Ogni volta che si presta molta attenzione ad un'altra persona, questa persona si senta più preziosa e importante. Poi viene l'accordo, la finale, che si può praticare in qualsiasi incontro con un numero qualsiasi di persone e consiste nell'essere generalmente d'accordo con gli altri. Si può essere d'accordo anche se non si è d'accordo con il punto di vista di qualcuno. Cosa intendo dire? Bisogna ascoltare e capire il punto di vista dell'altra persona anche se non lo accettate. Ma cercate di non ignorarlo, magari allontanandovi oppure contraddirlo, contraddicendolo in modo diretto, perché alimentereste discussioni inutili. Evitate le critiche, la negatività. se state organizzando voi l'incontro avete un enorme potere. Tutti vi ammireranno e si rivolgeranno a voi come a dei leader. Tutto ciò che si fa in quella giornata viene ingrandito in modo positivo o negativo, dipende da voi. Adesso andiamo a vedere il punto di cui abbiamo parlato prima, ossia chiamare l'azione. Quindi la fine del discorso. Alla fine del discorso dovete chiedere al pubblico di fare qualcosa. Non è sufficiente terminare il discorso e andare via. Dovete avere una forte presa di posizione e chiedere alle persone di fare qualcosa che non avrebbero potuto fare in assenza delle vostre raccomandazioni. L'azione che volete che la gente intraprenda in questo momento deve essere chiara alle persone del pubblico così come deve essere chiara anche ai vostri clienti. Parlate con loro di quanto staranno meglio dopo aver accettato le vostre raccomandazioni e questo aumenterà la loro stima nei vostri confronti. In ultima analisi le persone cambiano solo perché sentono che dopo staranno meglio di prima. Quindi le vostre osservazioni conclusive dovrebbero sottolineare quanto saranno migliori le cose per i membri del vostro pubblico dopo che avranno accettato il vostro consiglio. Questo era il video riguardo il libro di Brian Tracy, Parlare per vincere. Un libro che ci insegna come parlare o fare una presentazione davanti a poche persone o anche davanti a un grande numero di persone quindi a un grande pubblico. Quali sono i dettagli a cui prestare attenzione per massimizzare l'attenzione degli altri nei nostri confronti. Questo libro vi aiuterà a migliorare la qualità della vostra comunicazione in generale e spero che questo video vi dia degli spunti interessanti per il vostro futuro. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio della vostra attenzione. Ciao!